Allora, oggi, anzi questa settimana, affrontiamo l'ultimo capitolo della parte di programmazione, il capitolo P8, che è un titolo molto pretenzioso, strutture dati complesse, quelle complesse davvero le vedete l'anno prossimo per chi fa il corso di algoritmi e strutture dati, ma diciamo un pochino più complesse rispetto alle liste che abbiamo visto oggi. L'obiettivo di questa unità è prendere, diciamo così, confidenza con due strutture dati nuove, che sono gli insiemi edizionari, che poi troveremo molto utili, soprattutto gli dizionari, per affrontare i vari esercizi che seguiranno e devo dire che anche gli esercizi che abbiamo fatto finora spesso mi sono mancati, mi è mancato non poterli usare perché ci semplifichano spesso parecchie operazioni. Allora, dopodiché cominceremo a parlare di strutture più complesse che sono quelle che si ottengono combinando tra di loro tutte queste strutture dati insieme, ma questo lo faremo soprattutto attraverso una serie di esercizi in cui ragioniamo come poter costruire appunto dati articolati usando i mattoni che abbiamo per costruire dati che sono liste, tuple, insiemi edizionari. Partiamo dalla parte più facile che sono gli insiemi, su cui non c'è tantissimo da capire, da fare, un insieme è un contenitore, quindi come abbiamo visto le liste sono contenitori, cioè una variabile di tipo lista può contenere tanti oggetti diversi di tipi diversi, la stessa cosa succede con gli insiemi e questi contenitori però hanno regole un pochino particolari, ad esempio un insieme è caratterizzato dal fatto che un elemento può esistere al massimo una volta all'interno dell'insieme, cioè un contenitore che non ammette dei duplicati. Non è possibile inserire due volte lo stesso valore in un insieme, ma questo ci torna perché è la stessa cosa che succede in un insieme matematico, in un insieme matematico io definisco gli elementi che ne fanno parte, ma un elemento o fa parte dell'insieme o non fa parte dell'insieme non è possibile che faccia parte più volte. Così come un insieme matematico di per sé è un insieme non ordinato, a meno che si accontenga dei valori che intrinsecamente hanno un ordinamento, ma quando dico gli elementi all'interno dell'insieme non esiste il primo, il secondo, il terzo elemento dell'insieme, o degli elementi che appartengono ma non sono intrinsecamente ordinati. Quindi a differenza delle liste, diciamo un po' il contrario delle liste, in una lista ogni elemento ha una posizione ben nota, indice 0, indice 1, indice 2, ma è possibile che ci siano dei duplicati. In un insieme invece non è possibile che ci siano dei duplicati, ma non è possibile neanche definire una posizione di un elemento dell'insieme, non mi è supportato. Le operazioni che posso fare su insiemi, insiemi in Python, sono copiate da quelli matematici. Perché introduciamo questo tipo di dato nuovo? Uno perché fa comodo avere un oggetto che rifiuta i duplicati, quindi se ho degli elementi duplicati e voglio vederli una volta sola, li mettono insieme e automaticamente compariranno una volta sola e i duplicati saranno cancellati. E poi perché alcuni tipi di operazioni, soprattutto quelli che hanno a che fare con l'intersezione, l'unione ma meno frequente, il test di appartenenza, questo elemento c'è o non c'è, ce l'ho o non ce l'ho, la parola giusta o sbagliata. Sono molto più efficienti se applicate in un insieme che non applicate in una lista. Adesso vediamo poi dal punto di vista del linguaggio. definire un insieme è facile perché basta elencare, diciamo un insieme costante, letterale, basta elencare gli elementi che ne fanno parte tra parentesi graffe. Anche qua scopriamo la convenzione della matematica. Quindi quello che è blue, red, white potrebbe essere una lista se avessimo usato le parentesi quadrate e invece un insieme se usiamo le parentesi graffe. Se invece avessimo usato le parentesi tonde sarebbe stata una tupla. Quindi alla fine la sintassi si somiglia. Il tipo di contenitore è identificato dal tipo di parentesi che lo delimita per questi contenitori predefiniti nel linguaggio. In questo caso abbiamo degli insiemi che contengono delle stringhe. L'elemento contenuto nel contenitore, il UK flag è un contenitore, è un insieme che contiene elementi tipo stringa. Qui gli elementi che sono stati indicati sono i colori che compongono le bandiere nazionali di questi stati, tanto per fare un esempio. quindi quando io descrivo la bandiera del UK non dico che è blu, bianca, rossa, bianca, blu, bianca, rossa, bianca, blu eccetera eccetera. Non vado a descrivere più volte lo stesso colore, dico che è bianca, rossa e blu. E questi tre colori sono rappresentati qua e non sono ripetuti, non ha senso ripeterli più volte. Quindi un esempio appunto sono quelli degli insiemi di stringhe. Si possono costruire o con la sintassi parentesi graffa e elenco gli elementi, oppure con la funzione set. Noi ormai conosciamo la funzione list che mi serve per creare una lista, la funzione tuple che mi serve per costruire una tupla, la funzione str la consumiamo da tempo che mi serve per costruire una lista, beh per costruire un insieme posso trovare una funzione set che costruisce un nuovo insieme mettendoci dentro gli elementi di un qualunque altro contenitore. Quindi se ho dei valori che sono in una lista con la funzione set costruisco un insieme che contiene gli elementi della lista a cui ho fatto due cose, ho cancellato i duplicati e ho rimosso l'ordine, ho dimenticato in che ordine comparissero, perché gli insiemi sono non duplicati e non ordinati. C'è solo un punto di attenzione che è il tipo di valori che possono essere contenuti in un insieme. Una lista o una tupla possono contenere qualunque cosa, a loro non interessa, ci mettono dentro numeri, stringhe, altre liste, no? Non fanno una piega. In realtà alla lista non interessa neanche capire quali sono i dati che contiene. Alla lista interessa semplicemente dire ok, tu sei nella posizione 5 o nella posizione 6. Non fa nulla sul valore del dato. Un insieme invece fa del lavoro, va a analizzare il dato che gli metto dentro, se non altro perché deve capire se questo dato è duplicato oppure no. E quindi un insieme funziona solamente se ho dei dati al suo interno che soddisfano due proprietà. Una, sembra ovvia, che i dati siano tra di loro confrontabili. Cioè io ho un insieme che contiene dei dati, del string che abbiamo visto come un esempio finora. Ci aggiungo un dato nuovo, allora cosa fa l'insieme? Va a confrontare se il dato nuovo è uguale a uno di quei già esistenti, prima di poterlo inserire, altrimenti non inserisce perché non accetta i duplicati. Ecco, questo significa che i dati tra di loro devono essere confrontabili. Che vorrà dire innanzitutto che devono essere tutti dello stesso tipo, ho tutti i numeri, ho tutte stringhe, perché io non posso confrontare un numero con una stringa, se ci provassi mi darebbe errore. Ed anche, quindi questo è ragionevole, non posso creare degli insiemi di tipi di dati misti. La seconda cosa che non posso fare è, una volta che ho inserito un valore in un insieme, cambiarlo. Ci immaginate se in un insieme io potessi mettere una lista, no? Una lista che contiene il valore 3, poi un'altra lista che contiene il valore 3 e 5. Allora, quando li mettono in un insieme sono due liste diverse, quindi ci stanno. Poi però prendo la prima lista e ci aggiungo 5. Faccio un append, che si può fare su una lista. Allora cosa succede? Che l'insieme si troverebbe a dover avere in pancia due liste uguali, che quando le ho inserite erano diverse, ma poi ci ho giocato e casualmente sono diventate uguali. E allora lui dovrebbe accorgersene e cancellare una delle due, non so che dovrebbe fare. Il fatto che io sono vincolato nel fatto che gli elementi quando li inserisco devono essere diversi, voglio garantire che se erano diversi quando li ho inseriti, rimangono diversi per sempre. Altrimenti la logica dell'insieme scompare, non posso più darti quella garanzia che non sono implicati. Allora, chi ha inventato l'insieme e ha detto va bene, tu puoi usare l'insieme, ma dentro l'insieme ci puoi mettere solo dati immutabili. E noi conosciamo già alcuni dati immutabili, sono i numeri, sono immutabili, le stringhe sono immutabili, le tuple sono immutabili. Invece le liste non sono immutabili, hanno l'appende per dirne una, i dizionari non li conosciamo ancora, gli insiemi stessi non sono immutabili, io un insieme posso aggiungere e togliere elementi. Quindi un insieme, se lo diciamo in una frase unica, è un contenitore mutabile di valori immutabili. Il contenitore mutabile, l'insieme posso aggiungere, togliere e cancellare. I valori contenuti sono immutabili, posso in un insieme mettere solo valori immutabili. In realtà il discorso è un pochino più complicato, chi vuole leggere la versione complicata va a leggersi questo link. Ma stringi e stringi noi possiamo inserire in un insieme solamente valori di questo tipo, tra quelli che conosciamo numeri, stringhe e tuple e non liste, file o altri insiemi. Quindi mentre una lista di liste si può fare, una tupla di tuple si può fare, un insieme di insiemi non si può fare, ma neanche un insieme di liste. Ma una lista di insiemi sì, e così ci siamo incasinati, il pensiero. Quindi ognuno di questi contenitori ha delle regole, dei contratti di uso leggermente diversi. Che operazioni posso fare con un insieme? Ripercorriamo le solite operazioni che facciamo con gli altri contenitori. Creare un insieme vuoto, un contenitore vuoto di tipo set, si usa con la funzione set senza argomenti. La scorciatoia aperta graffa e chiusa graffa invece non funziona con gli insiemi. Per una lista vuota facevamo aperta e chiusa quadra. Non funziona perché quella sintesi lì è riservata ai dizionari. I dizionari e insiemi condividono un po' della sintassi e quindi bisogna fare un po' attenzione. Però set. Quanti elementi ha un insieme? Len, la solita funzione che usiamo da sempre per contare il numero di caratteri di una stringa, numero di elementi di una lista e così via. Verificare se un elemento appartiene o non appartiene ad un insieme, in oppure not in. L'abbiamo usato sulle stringe, l'abbiamo usato sulle liste. Alla fine è sempre un contenitore, quindi si usa come gli altri contenitori. Posso iterare sugli elementi di un insieme. Un contenitore ci potrò iterare sopra, ad esempio, con un ciclo for. Con una particolarità, anzi due particolarità. Una, già lo dovremmo sapere, se cast è l'insieme dei personaggi di un film, l'iterazione mi darà ogni volta una, quindi un insieme di stringhe, ogni volta mi darà la stringa successiva. Quindi l'iterazione col ciclo for per valore. Lo potevamo fare anche su una lista. Su una lista potevamo anche fare un'iterazione per indice. Ricordate, range di length della lista, mi genera tutti gli indici possibili di quella lista e poi andavo a estrarre ogni volta il primo elemento, lista di 0, lista di 1, lista di 2, lista di 3. Ecco, questa operazione qua con gli insiemi non funziona. Perché non esiste il primo elemento di un insieme o il secondo elemento di un insieme. Cioè non posso accedere agli elementi di un insieme usando le parentesi quadre. Non sono indicizzabili. Perché? Perché non sono ordinati. Ok? Posso iterare? Sì. Posso indicizzare? No. E voi mi direte, ma se puoi iterare, l'iterazione te ne darà uno per primo e un altro per secondo, no? Sì, però è un ordine accidentale. Nel senso che l'ordine con cui l'iterazione sull'insieme mi sputa fuori gli elementi, uno può cambiare se aggiungo o tolgo elementi e due non è detto che sia lo stesso ordine con cui ho messo gli elementi dentro. Quindi tutte le volte che devo iterare sull'insieme lui mi tirerà fuori i valori, ma l'ordine con cui mi tirerà fuori questi valori non è una cosa su cui posso fare affidamento. Dimmi. No. Ogni volta che lo eseguo l'ordine, quindi se ripeto lo stesso ciclo dopo, subito dopo, senza aver cambiato l'insieme nel frattempo, l'ordine è lo stesso. Però se io dovessi dirti a tavolino, facciamo un esempio, così lo vediamo subito, visto che nelle slide ci sono esempi su insiemi di numeri, noi facciamo un insieme di string e noi facciamo un insieme di numeri. Quindi prendiamo un insieme A in cui ci metto dentro i numeri 3, 5 e 8. 5 e 8. Ecco, questo insieme A, se lo visualizzo, mi visualizza 8 tra 5, che è lo stesso insieme, ovviamente, perché contiene gli stessi elementi. Voi mi dite, li contiene in ordine diverso? No, perché l'ordine non fa parte dell'insieme. L'ordine è un accidente che ho usato, una cosa effimera, mi è servito metterli in un certo ordine per poterli creare e mi è servito vederli in un certo ordine per poterli stampare, ma intrinsecamente non c'è nessun ordine. Neanche quello numerico. Io, guarda qua, li ho messi in ordine crescente e lui mi l'ha stampato in ordine, beh, non è ne crescente, ne decrescente. In realtà l'ordine, ma ve lo dico sottovoce, deriva dalla funzione di hash che usa internamente l'insieme per ottimizzare l'accesso. Chiuso a parentesi, non vi sto a spiegare poterla funzione di hash, perché fa parte appunto dell'implementazione della struttura dati. Però un meccanismo per cui dato un certo dato, estrae un numeretto interno che gli permette di distinguere tra dati diversi e poterli accedere rapidamente. Quindi per poter essere efficiente, veloce questa struttura dati, ha dovuto sacrificare l'ordinamento e quindi non ce lo fornisce più. E quindi se io provassi a dire A di zero, mi dice che un oggetto di tipo set non è indicizzabile, non è posso usare degli indici, l'operatore di digitazione non funziona. poi ovviamente se voglio posso convertirlo in una lista, mi darà, mi creerà una lista con gli elementi nell'ordine che vuole lui. Lo posso modificare, guarda questo è quello che dice lui, l'abbiamo visto adesso, in cui l'ordine con cui saltano fuori è casuale, se io volessi estrarre in ordine, allora potrei riuscire a recuperare un ordine intrinseco, ad esempio sui numeri li posso estrarre dal più piccolo al più grande, oppure non potrò mai recuperare l'ordine di inserimento. Questo lo perdo per sempre, il primo, il secondo, il terzo che ho messo dentro. Se mi interessa l'ordine di inserimento uso una lista che è nata per quello. Se mi interessa stampare le core in ordine magari crescente e numerico io posso usare la funzione sorted che si può applicare a un insieme. Cosa fa la funzione sorted? Prende questi dati, li mette in ordine crescente, numerico o psicografico a seconda che contengano numeri o stringhe e mi dà, occhio, una lista degli elementi ordinati. Ovvio, perché se mi desse un insieme questo qua salterebbe fuori nell'ordine che vuole. Quindi ogni qualvolta pensiamo all'ordine degli elementi, alla fine deve essere una lista. su cui posso iterare, posso fare ciò che voglio, ma la sorte A era un insieme, sorte di A è una lista. È una funzione che mi sostituisce una lista che contiene gli stessi valori di A ma ordinati. Ecco, come faccio? Ho detto che l'insieme è mutabile, quindi ho dei modi per aggiungere e togliere delle cose. Allora, per aggiungere sul metodo ADD, non append, ma ADD. Append ci dà l'idea di aggiungere in fondo, no? No, qui non esiste un fondo. È un metodo che si chiama diversamente ADD, quindi se il mio insieme A ci aggiungo 12, quando visualizzo A mi farà vedere l'insieme modificato in cui c'è anche il 12 che l'ha ficcato lì a metà. Però abbiamo già capito che non possiamo prevedere dove li metto. se provo ad aggiungere il 3 che già c'era, non succede niente. Cioè non è un errore cercare di aggiungere un insieme, un elemento che già c'è, semplicemente l'insieme non cambia. Punto. Ok? Quindi questo è utile perché io se avessi magari una lista che contiene tanti valori e voglio verificare se ci sono dei doppioni o eliminarli, converto la lista in un set e mi trovo un insieme più piccolo in cui i valori doppioni sono stati ignorati, non eliminati, non è che cancello qualcosa, semplicemente lo ignoro, non lo aggiungo una seconda volta, non mi dà errore. Se invece voglio togliere un elemento uso il metodo discard, quindi potrei voler togliere l'8, potrei fare appunto discard, scusate la pronuncia in inglese ma lo dico come si legge, 8 e quindi ovviamente è rimasto l'insieme senza l'8. Se io provassi a cancellare il 7, che non c'è, non fa nulla. Quindi add discard sono metodi che non generano mai errori, possono aggiungere, togliere elementi, se tolgo un elemento che non c'è, va bene, non succede nulla, se aggiungo un elemento che c'è già, non succede nulla, sono simmetrici questi due metodi. Poi c'è il fratello cattivo di discard che è remove, remove ce l'aveva già sulle liste, cerco un elemento e se c'è lo trova, lo cancella, ok, se non c'è genero un'eccezione. Quindi il comportamento in caso di elemento mancante cambia. Quindi questa è un'operazione di base, creo un insieme, vuoto o non vuoto, aggiungo o cancello un elemento per volta, oppure su vuoto l'insieme, cancello tutti gli elementi, vabbè, clear o anche sull'ISPE. Poi ho, e fin qua lavoro un elemento per volta, è un po' noioso, oppure posso lavorare sugli insiemi sapendo che sono insiemi. Allora, quali sono le operazioni che posso fare sugli insiemi? Unione, intersezione, differenza, complemento, eccetera. E ci sono tutte queste operazioni supportate, ad esempio il subset è un metodo che verifica se un insieme è un sotto insieme di un altro. Ad esempio mi dice che confronta la bandiera canadese con quella britannica e verifica se è vero che i colori della bandiera canadese sono sotto insieme di quelli della britannica. Allora, canadese è bianco e rosso, britannica è rosso, blu e bianco, qui effettivamente è un sotto insieme. Italiano e british invece non è un sotto insieme, qui c'è un nod avanti per farlo diventare true, perché ovviamente nella bandiera italiana abbiamo anche il verde che non c'è in quella britannica. C'è ovviamente l'operatore di confronto tra due insiemi, uguale o diverso, due insiemi sono uguali, ci sono gli stessi elementi, punto. Nelle liste avremmo detto gli stessi elementi nello stesso ordine, invece con l'insieme non lo possiamo dire. Unione, fa l'unione di due insiemi, attenzione che qui c'è un po' di asimmetria, che a me non piace tanto su questi metodi, perché il metodo ad, remove, add, discard, remove, modificano l'insieme. Subset va semplicemente a fare un controllo, quindi non modifica niente. Union è un metodo che invece non modifica l'insieme, ma restituisce un insieme nuovo che è l'unione dei due dati. Non mi piace tanto perché alcuni metodi modificano, altri metodi non modificano, quindi uno deve sempre ricordarseli. Però union prende un insieme, punto. Union, un altro insieme, restituisce, non modifica nessuno dei due, e mi restituisce uno nuovo che contenga l'unione degli elementi dei due. Sappiamo tutti cosa è l'unione, così come sappiamo tutti cosa è l'intersezione di due insiemi. questo lo vediamo su degli insiemi crottini con quattro elementi, ma immaginate che un insieme contenga, che ne so, l'insieme di tutti i numeri di matricola degli studenti e poi vuoi andare a vedere quali sono scritte in un esame, con un'istruzione sola, l'intersezione lo puoi fare. Insieme di tutte le parole di un libro, andare a vedere quelle che sono correttamente scritte, quindi ho l'insieme delle parole di un dizionario, quindi un libro di 20.000 parole, un dizionario di 50.000 parole, posso vedere quali sono gli errori di battitura, facendo una differenza. Dal libro tolgo tutte le parole di un dizionario, quel che rimangono sono le parole che c'erano nel libro e non c'erano nel dizionario. Quindi ragionando sugli insiemi e su queste operazioni insiemistiche a volte si riescono a evitare di scrivere programmi che abbiano doppi loop o altro per andare a cercare o a confrontare elenchi di dati. Intersezione, unione, differenza tra insiemi. Non esiste il complemento perché non abbiamo definito un insieme universo, non si può definire, ma la differenza è gli elementi di un insieme che non sono anche sull'altro insieme. Qui ci sono riassunte le funzioni principali che abbiamo visto e esiste anche, sul libro non c'era, ma è anche possibile usare una scorciatoia per queste funzioni che è più sotto forma di operatore. Quindi anziché union posso usare la barra verticale, anziché intersection posso usare la e commerciale, anziché difference posso usare il meno e cose di questo genere. Sono equivalenti, fanno la stessa cosa. Anziché sotto insieme posso usare il minore o il minore uguale. Allora, quelli di destra sono sicuramente più compatti, alcuni sono più leggibili secondo me, maggiore e minore sono più leggibili. Gli altri un pochino meno secondo me perché quella barra rischia di perdersi, però è uguale, scegliete quello che volete. Il risultato è lo stesso e in entrambi i casi non vengono modificati né x1 né x2, ma viene sempre costruito un insieme nuovo. Questo è importante ricordarci. Vi ricordate l'esercizio che abbiamo fatto la volta scorsa in cui dovevamo... cos'è che abbiamo fatto? Dobbiamo, abbiamo dovuto elencare senza duplicati gli elementi di una lista. Cos'erano? I tipi di corsi, bravo, grazie. Vedi che la memoria è migliore della mia. Abbiamo dovuto elencare, avevamo una parte di codice che adesso vado a riprendere. La settimana scorsa nel programma degli iscritti avevamo una serie di codice di questo genere qua. Era estrae cds, guardalo qua. Questa funziona. In cui avevamo un elenco, volevamo creare un elenco di cds, avevamo un insieme di dati e avevamo un'istruzione di questo genere. Se il cds non è in elenco, allora aggiungilo. Cioè abbiamo aggiunto un elemento a una lista solo se questo elemento già non fosse parte della lista. Ok? Questa è un'operazione che ci ha permesso di costruire un elenco privo di duplicati, ma non conoscevamo ancora gli insiemi. Adesso che conosciamo gli insiemi potremmo riscrivere questa funzione, che ovviamente prende sempre la lista degli studenti sotto forma di insieme. Questo elenco di cds lo calcolo come insieme e non come lista. E quindi posso iterare studente in studenti, il cds sarà sempre uguale, ma poi quando devo aggiungere faccio semplicemente un elenco.add di cds. Questo fa la stessa cosa, non devo più fare il controllo se l'elemento fa parte già dell'insieme o no, perché è già l'add che lo fa, che non mi aggiungi i duplicati. e su questi dati qua non ce ne accorgiamo, ma questa seconda versione è molto più efficiente, perché evita questa operazione il cds noto in elenco, che il nostro elenco aveva 5-6 cds al suo interno, ma se l'elenco fosse lungo, la ricerca di un valore all'interno di una lista richiede a Python di andarsi a guardare tutti gli elementi della lista fino a quando non ne trova uno uguale o fino a quando non arriva al fondo della lista e scopre che non c'è. Mentre invece add internamente fa la stessa cosa, vede se l'elemento c'è, ma con questo meccanismo, diciamo così, ottimizzato, di cui vi ho accennato ma non vi ho spiegato, ma che è la base del funzionamento degli insiemi. Quindi questa su insiemi elenco lunghi o operazioni ripetute sui elenchi di studenti lunghi, questo può essere 10 volte più veloce, una cosa di questo genere. Usare gli insiemi perché nativamente fanno quel lavoro lì di evitare i duplicati e non usare le liste forzandole a non avere i duplicati e andando ogni volta a cercare l'elemento c'è o l'elemento non c'è. Quindi questo se vogliamo è lo scopo principale con cui dobbiamo ricordarci, esistono gli insiemi tutte le volte che dobbiamo verificare o eliminare dei possibili duplicati. Tanti altri scopi, diciamo, per tanti altri scopi non sono utilizzati proprio perché sono poverini limitati a dover contenere un solo numero string. quindi non è che puoi memorizzarci dei dati complessi al loro interno. Ad esempio qui dice pensa di avere una filastroca, un file di testo qualunque. Conta quante parole diverse ci sono all'interno di quel testo. È quasi banale detto a questo punto. Se voglio sapere quante parole diverse ci sono, prendo tutte le parole del file, le aggiungo a un insieme esattamente come abbiamo fatto qua con i cds e otterro un insieme la cui dimensione è esattamente uguale il numero di parole diverso tra di loro. Quindi adesso qua è una cosa di questo genere. Vabbè qui c'è tutta la pulizia delle parole eccetera. Oppure non entro in questi esempi perché come dicevo sono più propedeutici ma voglio arrivare ai dizionari su cui poi faremo esercizi congiunti. Un altro esempio, un'altra applicazione è degli insiemi, ad esempio controllo ortografico di cui vi parlavo prima. Pensate di avere un file che contiene tutte le parole di un dizionario, di un dizionario italiano, di un dizionario inglese. Questo qua è un file di 800.000 righe. Quante parole ci sono? Pensate che ogni parola sia declinata in tutti i modi, maschile, femminile, plurale, i verbi, sui vari tempi e modi. Tutte le parole che sono corrette in una determinata lingua. E poi un testo di una storia. E vogliamo magari scoprire quali sono gli errori di battitura in quella storia. Quando scrivete qualcosa vi sottolinea in rosso dicendo questa parola non esiste. E come fa lui? Prende questa parola e la confronta con tutti gli elementi del dizionario. Ovviamente ha bisogno di un metodo efficace per dire questa parola c'è o non c'è nel dizionario, senza andarsi ogni volta che è schiacciato un carattere andarsi a scandire tutte le 800.000 parole del mio dizionario. E quindi questo è un tipico esempio che si può lavorare bene prendendo un insieme di parole che costituisce il dizionario e o il testo in che mi dice se una parola della mia storia è o non è nel dizionario. Oppure addirittura se io calcolo la differenza tra due insiemi, uno è le parole della storia e l'altro le parole del dizionario, questa differenza cosa sarà? Saranno le parole della storia che non sono il dizionario. Cioè per definizione le parole sbagliate. Poi non è proprio vero perché se voi provate a fare con una storia vera ci succede in mezzo di tutta una punteggiatura, le maiuscole, gli apostrofi che ci complica la vita. Però l'idea di base è questa. Quindi qui è un dizionario delle parole a questo punto uniche che compaiono nella storia, non mi serve averle più volte. Se l'ho scritta sbagliata più volte, mi interessa dire guardi quella parola lì come l'hai scritta sbagliata, non esiste. Meno differenza le parole lecite, lascia solamente le parole sbagliate. Quindi alla fine questa cosa qua che sembra complicata si risolve creando un insieme di parole leggendo il primo file. Un insieme di parole che legge il secondo file, il primo è il dizionario, il secondo è la storia e poi tutto il programma si regge su questa unica istruzione. Fai la differenza tra le parole presenti nella storia e le parole presenti nel dizionario. E so quali sono le parole. Può darsi che non ci siano parole sbagliate, allora potrei anche accorgermene prima andando a vedere se le parole presenti nella storia siano un sotto insieme delle parole del dizionario. Se sono un sotto insieme vuol dire che nella storia non c'è nessuna parola che non sia nel dizionario, quindi va bene, vuol dire che sono tutte giuste. Dimmi. Il subset confronta due insiemi, confronta l'insieme story e l'insieme words. La funzione? La funzione read words sì. Allora queste due funzioni sotto qua sono funzioni già predefinite, no? Il subset different sono le primitive degli insiemi, ci sono già. questa qua è una funzione che immaginiamo di aver scritto noi per leggere il dizionario dal file, leggere queste parole dal file. Poi in realtà se andate a vedere questo file qua che c'è nello zip legato ai luci dice tutto, sono tutte le funzioni. Però queste sono, semplicemente leggo le parole da un file e le metto insieme. Vabbè qui c'è anche, eccola qua, read words se volete vedere, ma semplicemente leggere le parole dal file, toglie solamente i caratteri non alfabetici, pulizia banale di parole. Ok? Quindi questi sono gli insiemi. Non facciamo gli esercizi apposta sugli insiemi, li useremo quando ci serviranno. Mentre invece un tipo di dato a cui voglio dedicare più tempo e poi tutti gli dati che seguono è quello dei dizionari, che è una sorta di ibrido tra un insieme e una lista. e è una struttura di dati abbastanza potente, si può usare, tra l'altro impareremo a usarla in due modi diversi, cioè la stessa struttura di dati con due filosofie di utilizzo diverse. Come array associativi c'è scritto qua, oppure come array coordinati. La spiegazione di che cosa sono è totalmente incomprensibile, quindi andiamo a imparare a pezzettini. Allora, un dizionario non è un contenitore, nel senso di liste, tuple e insiemi, ma è qualcosa di più complicato. Un dizionario di fatto mette in relazione due contenitori, che vengono chiamati chiavi e valori. Quindi associa, ad un insieme di chiavi, o meglio, a ciascuna chiave di un insieme di chiavi, associa un valore. Ad esempio, la chiave può essere il codice fiscale di una persona, il valore può essere i suoi dati, una lista che contiene i suoi dati, o una stringa chiave che identifica un elemento e un valore che contiene tutte le informazioni o delle informazioni a proposito di quell'elemento. detto così, ci fa capire che le chiavi sono pensate per essere dei valori univoci. La chiave di accesso, se noi tutti e tre abbiamo la stessa chiave, non siamo tanto ben organizzati. Quindi, un dizionario associa a un insieme di chiavi che sono univoche, uniche, a ciascuna di queste chiavi associa un valore. Il valore può essere qualunque roba. Può essere un numero, può essere una stringa, può essere una lista, può essere duplicato con altri valori, c'è più chiavi che hanno lo stesso valore. non c'è nessun controllo, nessun vincolo sui valori. Per quello che vi ho un po' detto, è un ibrido tra un insieme e una lista, perché le chiavi hanno la regola degli insiemi, univoche e vedremo immutabili. La stessa regola dell'insieme. I valori sono come in una lista, qualunque cosa va bene. Un dizionario ti memorizza dentro sia le chiavi, sia i valori e in più la relazione tra i due, cioè sa a quale chiave è associato un certo valore. O meglio, il contrario, sa quale valore è associato a quale chiave. Data una chiave ti trova il valore. La freccia che c'è in questa figura, piccolina, non si vede tanto, la freccia va dalla chiave al valore. Quindi il dizionario dentro in pancia ha tre cose. Un insieme di chiavi, un contenitore tipo lista di valori e la relazione che dice ad ogni chiave quale valore è associato. A ogni chiave può essere e deve essere associato esattamente un valore. Non può esistere una chiave senza un valore associato. Non può esistere una chiave che abbia due valori. Dal lato dei valori può esserci di tutto, nel senso che la maggior parte dei valori forse provengono da una chiave sola, ma possono esserci dei valori che sono condivisi tra più chiavi. Questo non è vietato. Sono un alias, lo stesso dato che si può ottenere da due chiavi diverse. E queste chiavi sono anch'essi dei valori, ma devono rispettare i vincoli degli insiemi. Questo dizionario a volte viene chiamato anche come tipologia di dato una mappa, cioè viene mappato una chiave su un valore, o un array associativo. Si comporta un po' come un array con una lista, mette in associazione un valore rispetto a un suo campo chiave. Come struttura dati, il dizionario assorge la funzione di diverse. Allora, come si crea un dizionario? Si crea con le parentesi graffe, come facevamo con gli insiemi, però ogni elemento di un dizionario non è un valore, ma è una coppia chiave-valore. Chiave-duepunti-valore. In questo caso qui ho creato un dizionario in cui ho come chiavi delle stringhe e come valori delle stringhe. Non sono obbligato. In questo caso ho quattro elementi nel dizionario, quindi la sua lunghezza. Se facessi l'end di questo dizionario mi darebbe quattro. Tre, quattro chiavi. In questo caso tre valori perché, guarda caso, il terzo e il quarto elemento condividono lo stesso valore. che è quello che abbiamo nella figura. Quindi, dizionario, chiave, due punti-valore, virgola, chiave, due punti-valore e così via. Le chiavi di un dizionario, le chiavi sono un insieme e quindi come dizionario posso, come chiave posso usare solamente i tipi di dati che abbiamo appena imparato si possono usare all'interno dell'insieme. e quindi stringhe o numeri, per fare la breve, o tuple, per carità. Mentre invece sul valore abbiamo detto che non c'è nessuna limitazione. Quindi, a cosa posso usare una cosa di questo genere? Beh, questo è un esempio qua in cui posso usare un dizionario per memorizzare una rubrica di numero di telefono, in cui la chiave e il nome della persona, quando voi prendete il telefono, aprite rubrica, no, questo è il microfono, non è il telefono, aprite, facciamo finta, aprite la rubrica, ogni elemento ha un nome univoco. E dovete dare un nome diverso dagli altri, altrimenti come fate a ritrovarlo poi nella rubrica? E poi il valore è il numero di telefono adesso associato. Anzi, in realtà nella rubrica telefonica, oltre al numero di telefono, abbiamo un indirizzo di mail, abbiamo una fotina, abbiamo tante altre informazioni. Un valore associato a quella chiave che è univoca, che è unica. Ok, che operazioni posso fare sui dizionari? Solita trafila, come si crea, come si aggiungono elementi, come si cercano, eccetera. Creare un dizionario vuoto si può fare o con la funzione dict, o con aperta e chiusa graffa. Questo è il motivo per cui aperta e chiusa graffa non crea un insieme vuoto, perché crea già un dizionario vuoto, che non sono la stessa cosa. La funzione dict la posso usare per creare un dizionario vuoto oppure per creare un dizionario partendo da un altro dizionario, ma non posso creare un dizionario partendo da una lista, ad esempio, o da un insieme, perché mi mancano metà dei dati. È più di un contenitore, dicevamo, quindi non posso creare un dizionario che ha due contenitori partendo da un contenitore solo. Quindi la funzione dict di fatto è abbastanza poco utile, se non per fare una copia di un dizionario quando poi ci devo lavorare sopra. E qui vale la stessa cosa che abbiamo sulle liste, se voglio fare una copia, un conto è creare un nuovo dizionario con la funzione dict che copia dentro una copia delle chiavi, una copia dei valori e una copia delle relazioni rispetto a creare un'altra variabile uguale contacts che crea un alias e non una copia. Lo stesso discorso che abbiamo fatto sulle liste vale qui, solo che qui è un pochino più complicato perché ho due contenitori. Come faccio a prendere i valori da un dizionario? Allora, il dizionario si può consultare solo conoscendo la chiave, si chiama chiave. E quindi, dato un dizionario, io posso accedere al valore che contiene solo indicizzando il dizionario con la chiave, con il valore della chiave. Allora, se la chiave è un numero, metterò tra parentesi quadri un numero. Se la chiave è una stringa, metterò tra parentesi quadri una stringa. Quindi sembrano un po' le liste come sintassi per leggere i dati. Solo che tra parentesi quadri non ci metto l'indice della posizione dell'elemento nella lista, qui non c'è indice, ricordiamoci che le chiavi sono insieme, quindi non hanno un ordine, ma ci metto il valore di una chiave. La sintassi sembra quella di una lista, ma si comporta in modo diverso. Proviamo a giocarci un pochino. Facciamo l'esempio della rubrica telefonica. Abbiamo detto che mette insieme dei nomi con dei numeri di telefono. Quindi diciamo che Gigi ha come numero di telefono 12345 e Tony ha 5678. Quindi io ho creato un dizionario in cui devo dire sempre due cose. Chi sono le chiavi, chi sono i valori. Le chiavi sono stringhe, i valori sono numeri. Voglio sapere qual è il numero di telefono di Tony. Potrò accedere alla rubrica, aperta quadra, Tony. chiuso a quadra. Accedere a questo mi dà il valore che era memorizzato dentro questa rubrica. Voglio modificare il numero di telefono di Tony. Assegno un nuovo valore. Voglio aggiungere un nuovo nome in rubrica. Mi piacciono i nomi di quattro lettere questa sera. Pardon. Chiuso a quadra, uguale. Se voglio aggiungere un elemento a un dizionario lo posso fare assegnando un valore in questo caso 3, 3, 3, 3 a una chiave che non esisteva prima. Adesso c'è anche un terzo elemento nel dizionario. Quindi io posso assegnare un valore a una chiave che esiste già e la modifica. A una chiave che non esiste ancora e la aggiunge. Non ci sono delle ambiguità in questa operazione perché le chiavi non possono essere duplicate. Quindi non c'è di ciò che mi aggiungo una chiave che esiste già. Se esiste già modifica il dato. Se non esiste ancora lo crea. Quindi popolare un dizionario significa semplicemente metterci dentro i valori. Attenzione che questo sintassi con le liste non si poteva fare. Io potevo cambiare il valore di una lista di un elemento di una lista ma non potevo assegnare lista di 7 uguale a un numero se l'elemento 7 non c'era ancora. Mi dava errore. Index out of range. Qua invece sì, si può fare. Quindi riuso la stessa sintassi ma facciamo attenzione che si comporti in modo diverso. Mentre non si può fare nulla che sia simile all'append non esiste un metodo append qua. È semplicemente l'assegnazione. E se cerco di accedere ad un elemento che non c'è? se cerco di accedere all'elemento che non c'è mi dà un'eccezione un key error. Quindi se voglio gestirlo dovrò o gestire l'eccezione try accedere all'elemento accept key error oppure forse è più facile prima di accedere all'elemento verificare se c'è. Come faccio a verificare se una chiave è in un dizionario? Usando in. L'operatore in lavora sulle chiavi. Quindi se io scrivo se Tom è in rubrica mi dice di no. Se invece Tony è in rubrica mi dice di sì. E se 3333 è in rubrica mi dice di no. 3333 c'è ma è uno dei valori non è una delle chiavi. I valori non vengono ricercati non fanno parte del meccanismo di inginizzazione. Quindi le chiavi possono essere numeri o stringhe l'accesso agli elementi avviene per chiave e non per ordine. Non posso dire in un dizionario rubrica di 0 1 2 3 il primo secondo il terzo. Devo sempre usare il numero della chiave non posso usare la posizione. In un rotting mi dice se una chiave è o non c'è nel dizionario altrimenti c'è mi genera key error quindi se voglio evitare i key error devo sempre ogni volta che accedo a un dizionario se non sono più che sicuro che quel valore c'è di sicuro devo prima controllare con l'operatore in. Se c'è accedo altrimenti dico guarda questa chiave qua non c'è. c'è anche una forma breve per accedere ad un elemento di cui non so a priori non sono sicuro a priori se la chiave ci sia o no che è un metodo che si chiama get il metodo get funziona un po' con le parentesi quadre mi cerco un elemento dato alla chiave ma se non la trovo la chiave anziché dare un errore restituisce un valore che è il valore che gli passo come secondo parametro della funzione quindi io prima avevo fatto rubrica di tom e mi aveva dato errore io magari non sono sicuro se tom c'è allora posso usare il metodo get rubrica.get cerco tom e poi come secondo parametro gli dico non esiste cosa fa la funzione get prima va a vedere se la chiave esiste se la chiave esiste mi restituisce il valore effettivo se la chiave non esiste mi restituisce in questo caso questo messaggio se invece provo a usare la funzione get con un nome che c'è nel dizionario mi restituisce il valore del nome quindi questo è comodo per usare diciamo così un valore di default se l'elemento c'è prendo quello se non c'è vale 0 ad esempio aggiunta modifica di elementi quello che abbiamo appena fatto cancellare elementi che l'altra operazione è inversa all'aggiunta si usa il metodo pop passandogli come argomento la chiave cancella l'intera coppia chiave valore noi nella nostra rubrica non siamo più amici con Gigi quindi rubrica punto pop di Gigi come fa sempre il pop cancella l'elemento e restituisce il valore che prima era memorizzato in corrispondenza in corrispondenza da quell'elemento lì quindi alla fine un po' somiglia una lista i 15 però non siano vincolati ad essere numeri interi da 0 alla lunghezza meno 1 ma possono essere numeri qualsiasi o stringhe qualsiasi questo dizionario ovviamente anche pop se non esiste l'elemento che sto cercando mi darà il solito error cioè la chiave che mi è passata non esiste e per consultare un dizionario se io sono la chiave accedo all'elemento per chiave ma se invece voglio vederli tutti voglio ricercarli in tutti posso usare un ciclo e in un ciclo for ovviamente il dizionario si presenta come un contenitore di chiavi quindi quando fate un ciclo for in dizionario l'indice la variabile che di controllo del ciclo assumerà i valori delle chiavi non dei valori giustamente perché allora ricordiamoci che in un dizionario è sempre facilissimo passare dalla chiave al valore è un gran casino passare dal valore alla chiave quindi non fatelo perché significa andare a cercare tra tutti gli elementi eccetera vuol dire che se avete bisogno di passare dal valore alla chiave vuol dire che memorizzare quei dati in un dizionario fatto così non va bene non è la soluzione migliore quindi quando itero su un dizionario in realtà itero sulle chiavi del dizionario e poi data la chiave vabbè il valore lo posso ottenere facilmente dizionario parentesi chiave l'unico caso in cui le chiavi di un dizionario non si comportano come un insieme è proprio questa dell'iterazione perché quando itero sui valori di un insieme abbiamo visto l'ordine boh non dico casuale perché non è casuale nel senso di random vero però diciamo arbitrario è imprevedibile sui dizionari invece al inizio nella prima versione di python anche era così poi la gente non capiva e allora hanno modificato il linguaggio in modo da garantire che quando io itero su un dizionario cioè sulle chiavi di un dizionario le chiavi vengono sempre presentate in ordine di inserimento la prima che ho messo la seconda che ho messo la terza che ho messo e non vengono rimescolate come quella di un dizionario di un insieme l'avete visto prima qua quando ho aggiunto Anna me l'ha messo in fondo questo è l'ordine con cui posso iterare un dizionario l'ordine di inserimento se aggiungo un nuovo dato va sempre a finire in fondo poi a volte conviene non fidarsi di questo comportamento perché raramente serve se io invece volessi stampare la mia rubrica infatti non mi serve stampare in ordine di inserimento che resta di un ordine mi serve stampare la rubrica in ordine alfabetico allora io posso prendere di nuovo la mia cara funzione resorted che costruisce una lista ordinata delle chiavi quindi io posso rubrica è questa posso fare sorted di rubrica mi istituisce una lista attenzione quando parliamo di ordinamento saltano sempre fuori le liste sono le uniche che danno l'ordinamento degli elementi delle chiavi in ordine alfabetico quindi qua la sintassi di python è un pochino truffaldina nel senso che qui stai iterando su un dizionario ma in realtà l'iterazione avviene sulle chiari i valori se li vuoi te li vai a prendere qui fai un sort di un dizionario sembrerebbe che stai mettendo in ordine il dizionario no stai estraendo le chiavi e mettendo in ordine le chiavi i valori sono di serie B proprio perché sui valori non c'è nessun controllo di quale tipo di date possono avere eccetera eccetera le operazioni che possono fare sui valori sono molte di meno come operazioni predefinite poi posso anche iterare in modo più complesso ve lo accendono poi lo riprendiamo bene questo quando faremo esercizi in cui magari in una iterazione mi serve ad ogni iterazione avere sia la chiave che il valore l'abbiamo visto con elix tempo fa c'è una funzione che chiamava enumerate che mi permetteva di iterare valore indice valore indice valore indice valore ecco la stessa cosa si può fare sui dizionari solo che la funzione da utilizzare non è enumerate ma è items items cosa fa trasforma il dizionario in coppie di valori rubrica items lo trasforma in una lista di tuple di due elementi il cui primo elemento è la chiave il secondo elemento è il valore quindi rompe il dizionario e dice ok ti faccio un elenco delle varie coppie quell'elenco lì è ormai una lista quindi non c'è più il legame forte tra chiavi e valori l'efficienza dell'accesso eccetera qui ci scrive Dick Titans davanti perché ci sta dicendo guarda che non è una vera lista è un tipo di lista particolare che arriva da un dizionario ma questo come dicevo lo riprenderemo quando faremo gli esercizi qui sul dizionario alla fine come struttura dati ho poche operazioni da fare non ho una ricerca come non ce l'ho sull'insieme non c'è come sulle liste no c'è find o c'è index trovami un elemento e sull'insieme non ha senso dire trovami un elemento o c'è o non c'è quell'elemento quindi basta l'operatore in non mi servono cose più complicate come find sulle string index sulle liste e quindi anche sui dizionari trovami l'elemento ti do la chiave dimmi se c'è o se non c'è se c'è o se non c'è e se c'è dammi il valore scusate no questo qua se c'è dammi il valore il valore che se voglio posso cambiarti e questa stessa istruzione serve per cambiare i valori e per aggiungere di nuovi nelle liste è diverso cambiare un valore si fa con l'uguale aggiungere un valore si fa con l'appendo oppure con l'insert ma là c'è un ordine da mantenere qui non c'è nessun ordine quindi non aveva senso fare un metodo diverso per aggiungere elementi quindi il fatto che ci siano pochi metodi non ci spaventa non ci stupisce perché in realtà questi metodi sono più furbi perché hanno una struttura dati sotto più diciamo così articolata da gestire quindi con meno metodi posso fare cose più complicate allora cosa me ne faccio di questi famosi dizionari allora li posso usare in due modi molto diversi qui vediamo un po' di esempi così ci impratichiamo il primo modo è come già ho chiamati nelle prime slide un dizionario può essere anche chiamato un array associativo cosa vuol dire mettere in relazione un valore con un altro valore la rubrica del telefono ok cos'è un array associativo è una sorta di lista indicizzata sulla base di un dato che non è semplicemente l'ordine numerico mentre nella lista l'indice è per forza un indice numerico tra zero e la lunghezza qua l'indice chiamiamo indice in realtà si chiama chiave ma svolge quel ruolo è un qualunque valore che sia immutabile lo sappiamo e può mettere qualsiasi valore qualsiasi valore vuol dire potrebbero essere numeri stringhe ma anche a loro volta liste anzi non è infrequente avere un dizionario i cui valori siano liste o addirittura altri dizionari lo faremo parecchio questo giochino qua ma pensiamo a una cosa molto semplice sempre sull'esercizio sul file degli iscritti che abbiamo fatto la volta scorsa noi alla fine avevamo fatto un grosso lavoro abbiamo creato dei file di uscita e a un certo punto avevamo calcolato c uguale a c più uno cos'è questo c uguale a c più uno? beh man mano che scriviamo un file contenente gli studenti in un certo corso di laurea contiamo quanti ne abbiamo scritti alla fine dopo che ho creato questo file di uscita io so quanti studenti sono in un certo cds quindi ho determinato la frequenza di questi elementi però per determinare la frequenza di tutti devo leggermi tante volte quelli del primo cds tutti li conto ok metto da parte questo numero quelli del secondo cds li conto metto da parte questo numero quelli del terzo cds li conto metto da parte il numero e così via adesso che conosciamo i dizionari in realtà c'è un modo più furbo fatemi scrivere una funzione contafrequenze dell'insieme di studenti che si chiamava studenti cosa può fare questa funzione quindi l'obiettivo qual è calcola per ogni cds il numero di studenti frequentanti gli stessi numeri che avevamo prima però cerchiamo di farlo in una passata sola prima dovevamo chiamare a parte il fatto che la funzione stampava su file ci serviva per quello ma per avere quei conteggi dovevamo la prima volta solo contare quelli del primo cds poi solo la seconda poi solo la terza quindi facevamo tante passate come faccio a gestire questo beh io ho bisogno di una struttura dati che per ogni cds che è una stringa mi dia un valore che è la frequenza quindi questa funzione costruisce un dizionario con chiave una stringa che è il nome del cds e il valore è un numero intero che è la frequenza di apparizione di quel cds all'interno del file allora così ho la tabellina io me la immagino così se dovessi disegnare questi dati qua disegnare una tabellina nella prima colonna c'è un cds e nella seconda ci sono i numeri e sono appaiati ok allora andiamo a iterare sui nostri studenti per ciascuno studente estradiamo il cds e fin qua non abbiamo fatto nulla di diverso adesso chiediamoci questo cds può essere non so elettronico allora devo incrementare di uno la frequenza di elettronica ma la frequenza di elettronica dove è messa è dentro un dizionario che non ho ancora creato lo posso creare qua un dizionario di frequenze frequenze mettiamola tutta che inizialmente beh prima di aver letto i studenti non so niente no? poi man mano che leggo uno studente dico tu sei già di un cds che ho già visto o sei di un cds che non ho ancora visto perché se sei di un cds che ho già visto quel numero lì di persone che ho visto lo devo incrementare di uno altrimenti sei il primo di questo cds quindi aggiungo un elemento al dizionario e lo faccio valere uno perché tu sei il primo quindi se il cds è nel dizionario delle frequenze allora ti ho già visto ho già visto no non ho visto te ho già visto un altro studente dello stesso tuo cds allora vuol dire che frec frequenza di cds la posso sostituire con frequenza di cds più uno cioè incremento di uno il valore in corrispondenza di quella chiave lì questo però lo posso fare giustamente perché frequenza di cds esiste ed esiste di sicuro perché ho appena controllato che esiste questa if è fondamentale se non mettessi questa if la prima volta che passo di qua tunc key error perché cerco di leggere frequenza di cds che non c'è ancora perché poi in un altro caso in cui appunto non ci sia e allora la devo creare mettendola uno zero più uno dai allora questo in automatico mi unifica a tutti i record che hanno lo stesso cds perché usandoli come chiavi sono univoci e quindi avrò un contatore univoco per ogni cds particolare che ho trovato e ho fatto una solo giro dentro studente in parallelo in un certo senso una batteria di contatori che contano si incrementano ciascuno quando deve in corrispondenza dello studente di quel cds proviamo proviamo semplicemente una print di frequenza per vedere cosa esce adesso nel mio main che ho messo là sopra posso direttamente prima di fare le altre cose posso chiamare la mia calcola frequenze come l'ho chiamata conta frequenze poi riuscirò anche a scriverlo ok l'ho chiamata qua l'ho messa subito qua prima delle altre cose così vediamo che è capace da sola a lavorare basta solo che abbia l'elenco di studenti se io faccio run mi stampa questa cosa qua che è il dizionario grezzo come viene stampato da Python chiave inf t1 82 fis 1 t3 38 lt 26 e così via in che ordine sono? sono in ordine di prima apparizione un po' come nei film no? il cast in ordine di apparizione il primo che ho visto era inf poi ce ne sono stati altri 81 dopo il primo in qualunque ordine non lo sappiamo però quando l'ho aggiunto l'ho aggiunto per la prima volta il secondo che ho visto che non vuol dire che sia il secondo studente del file perché io potrei aver visto 7 inf e poi un fis ma è di sicuro che ho visto un fis prima di vedere il primo fis l'ho visto prima di vedere il primo elettronica e così via man mano che li aggiungo e li ho aggiunti solo questo if qua parla lungo li aggiungo solo se trovo un cds che non c'era ancora in quelli precedenti quindi quando si deve fare conteggio di frequenze di parole di numeri di intervalli eccetera il dizionario viene molto comodo tra l'altro in questo caso qui queste quattro righe si possono condensare facilmente usando il metodo get perché cosa servono queste due righe qua servono per gestire il caso particolare in cui la chiave non c'è se il cds con cui sto cercando di accedere non c'è perché non ho ancora visto nessuno studente di quel cds lì allora per evitare il key error devo gestire due casi particolari quello in cui la chiave c'è allora leggo il valore vecchio incremento di 1 e salvo oppure quello in cui non c'è allora la stessa cosa la potrei scrivere anche facendo finta che ci sia sempre allora se io scrivessi così non va bene perché questa operazione qua può fallire questo accesso qua cds qui può fallire allora se può fallire anziché avere un accesso diretto con la parentesi quadra uso il metodo get e dico ok se cds c'è dammi il valore se non c'è dammi 0 quindi questa riga qua è equivalente a queste quattro righe di sopra dove questa if fammi cose diverse secondo che il cds ci sia è nascosta dentro questa get in pratica che mi restituisce o il valore vero e quindi questo qua frequente cds se c'è oppure il valore di default cioè 0 vedete qua c'è uno 0 0 più 1 c'è scritto qua nel caso in cui non ci sia ecco forse per capire un po' meglio questo visto che la prima volta conviene magari andarcelo a vedere in debug così vediamo cosa succede con questi dizionari allora io ho avviato il programma e ho messo un breakpoint qua su questa riga 108 che è la prima riga della funzione no? questa riga ha come parametro studenti che è la lista di tutti i dati degli studenti quella che avevamo letto nel file csv vediamo cosa fa ho creato un dizionario frequenza dizionario vuoto viene qua poi itero sugli studenti e quindi avrò ogni volta il dato di uno studente diverso studente la variabile studente mi rappresenta un singolo studente estrago il cds che è l'unica cosa che mi interessa di questo studente e poi vediamo cds è in frequenza no perché frequenza è ancora vuoto quindi questa cds non è una chiave valida in questo momento per questo dizionario e infatti vado nel ramo s in cui assegno 1 a una nuova chiave che è inf t1 3 inf 1 t3 facendo questa istruzione frequenza che era il mio dizionario adesso non è più vuoto ma contiene un elemento con chiave inf 1 t3 valore 1 passo allo studente successivo che cds è? fisica fisica è nel dizionario? no allora creiamo una nuova entry con chiave fisica valore 1 e il mio dizionario adesso ha due entry questa e questa lunghezza 2 ma qua non me la fa vedere perché non ci sta sono due vado avanti terzo studente di chi cds lui? elettronica vabbè adesso abbiamo capito cosa succede lo inserisce quarto studente cos'è? cinema tutti nuovi i primi sono tutti diversi tra di loro e va bene stiamo popolando il nostro op sono andato troppo avanti cinema c'erano due di fila vabbè stavamo popolando il nostro dizionario con dei valori nuovi fate finta di non vedere questo 2 perché mi è scappato prendiamoci uno studente nuovo questo qua è fisica fisica in frequenza frequenza contiene fisica come chiave? sì allora vado in questo altro ramo in cui a destra ho frequenza di cds cds è fisica frequenza di cds è il valore corrente che vale 1 più 1 fa 2 e vado a mettere 2 esattamente in questa posizione qua dove prima c'era l'1 eccolo qua è diventato 2 quindi è come se io avessi questo dizionario contiene tanti contatori che contano gli studenti che hanno incontrato selezionati dalla chiave che sblocca l'uno o l'altro l'altro contatore e vado a incrementare quello alla fine avrò due informazioni la più semplice che mi ha costata 0 perché mi è venuta gratis è quanti cds ci sono in totale prima le ho dovuti contare le ho dovuti estrarre con una funzione a parte la sua selezione qua man mano che le trovo le aggiungo e alla fine vado a vedere quanti sono i dizionari o la lunghezza di quei dizionari in questo caso finora sono 4 se mi fermassi il file fosse finito qua direi ci sono 4 cds e ci sono anche dire quali sono le chiavi del dizionario c'è un metodo che si chiama keys per estrarle ma non lo vediamo oggi e poi per ciascuna chiave ho un valore che in questo caso è un semplice numero quindi quando sentiamo parlare di frequenza di occorrenza di un certo elemento questo tipicamente è lo schema che si usa mercoledì riprendiamo e proviamo a complicarci un pochino la vita anche con queste cose grazie a tutti